14esima giornata Juveandus in casa e calendario che oggi ci offre Juve e partita di Champions da vincere per forza Milan e partita di Coppa da vincere per forza giornatina bella peperina devo dire quindi io andrei avanti, l'unica cosa è che farei almeno posso fare almeno di di Messi? si, io posso fare almeno di Messi onestamente si, onestamente si, e quindi andiamo, e quindi andiamo perché oggi, oggi è lunga Tresighe, Bocino Nedved sarà già ripresa parecchio qua devo dire allora bella bella squadra per certi versi vediamo che sarà più determinato oggi si oggi si oggi lo mandi al bar e andiamo così basta che inizio bruciante Nedved non sa neanche dove si trova devo dire stupefacente un CR7 che ormai sembra Tommy Versetti di di GTA comunque vedi vedi la qualità di Bobson vedi vedi la differenza rispetto a Pippo lui non canterà son fico son fico ma è fico davvero per l'altro ci si autoconvince di continuo ma non serve a niente non sa mettere due palloni in fila bravo biondo su biondo CR7 può andare via può andare via mannaggia che rimpallo maledetto ti prego scattami scattami l'arca miteria comunque ammazza quanto stiamo carichi oggi dentro 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 arco tutto basta c'è le 7 oggi forma smagliante ma perché la punta ma poi allora questa questa predilezione per il colpo di punta Don Luriano va benissimo il problema è che lo credo perché sia storta raddrizziamola la punta marca miseria ha preso pure questa ok potremmo stare tranquillamente 3 a 0 oggi e nessuno si sarebbe accorto di niente mamma mia 4 a 0 nessuno avrebbe potuto dire alcun che ma come ma come può essere fallo mio se è rimasto fermo lui io sto correndo l'ostruzione al contrario bene buon primo tempo contentissimo soddisfattissimissimissimo e possiamo possiamo procedere con piena consapevolezza e gioia interiore davvero bello bello così fai bobby arca miseria de poco bobby mio t'ho fatto fare uno scatto de drop bravissimo ma non c'era mai il fallo ma esuberanza la sua esuberanza la sua su che gli avrò fatto mai non è che se come si sente crack vuol dire che fallo per forza carminiello è così carminiello non gli vogliamo bene soprattutto per la sua esuberanza che ricorda un po' montero si dice abbiamo fatto gli elementari insieme partito frank 3 contro 2 no era perdino era perché non capite una fama nessuno di dove voglio dare i passaggi bravo carminiello mamma mia che dica carminiello digno fa correre bobby bobby ma perché non mi ha preso il tiro perché non mi ha preso e soprattutto perché di sinistro ci siamo mangiati veramente una quantità di gol che io non riesco no io non riesco a spiegarmi no carminiello quanti passaggi che sbagli però quanti no il gol adesso no il momento manca a pes no il momento manca a pes no 1 a 0 risicatissimo risicatissimo però poco 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 diciamo specchio della partita che si è giocata perché diamine avremmo meritato di vincere 2 a 0 allora partita con il milan dunque qui noi di fatto di fatto ci giochiamo tutto cioè se non non vinciamo oggi è finita quindi l'uomo delle grandi occasioni è a volte noi lo sappiamo dobbiamo vincere tutte e tre e non è detto che basti ma vanno vinte tutte se ne perdiamo una o ne pareggiamo una è finita la Champions ovviamente il che sarebbe triste il che sarebbe tanto triste perché sogniamo una vittoria europea sogno tuttora una oh non è possibile l'aveva fatto quello che neanche CR7 messi riescono a fare però porco tutto sempre lui ti prego ti prego non è possibile di nuovo oh comunque io io non so in Champions c'è una sorta di maledizione mistica di origine ignota è rigore mannaggia a voi mannaggia mannaggia a te mannaggia che brutta palla comunque c'era un rigore grosso come una casa non vorrei dirlo vorrei essere scortese a farlo notare ma porco tutto già meritavamo di stare 1 a 0 almeno vai Frank tu lo sei maniato Frank tu lo sei maniato ahia questo è questo è più duro eh sì se ne devo usarti è buona non è possibile ma perché sempre sti palloni orribili bravo dimmi che l'hanno deviata te prego perché se no ti devo cacciare per forza ti devo che ti devo cacciare per mannaggia tutto è partito è partito mannaggia no vabbè ragazzi però veramente le comiche manco manco i calci d'angolo è il secondo che me rapinano intanto mo fischia sicuro mannaggia a me mannaggia non meritiamo di pareggiare questa partita dobbiamo vincere va vinta va vinta va vinta cazzarola stiamo giocando bene ma veramente bene ci manca sempre ci manca sempre l'ultimo eh non è possibile però io più di questo posso fare sto facendo i numeri da circo la beffa no è la beffa no è vabbè è incredibile la coppa la coppa è la quintessenza dello script io non so per quale motivo ma lo so quattro partite eh eh di chissà è una no non riesco non è finita non è finita altra azione eh ma ho l'altro pallone mannaggia ho tutto mannaggia ho tutto guarda 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 quello che sta accadendo è incredibile è fuori giochissimo esattamente no non è possibile no vabbè ragazzi cioè non ci credo non ci credo non ci credo ma non ci credo ma non ci credo ma 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 è senza senso ma è senza senso quello che è successo ma è senza senso ma non le ha mai sbagliate da quella distanza è impossibile per uno del suo livello ultima azione ronaldino il quarto uomo segnala che ci saranno ancora mannaggia no non è possibile non è possibile non è felice della decisione ma è caccio io non ci posso credere ci posso credere non ci posso siamo fuori dall'Europa accoglie il triplice fischio dell'arbitro non c'è un vincitore la partita siamo matematicamente fuori a questo punto temo che sia ufficialmente finita ma chi se ne frega la crescita è matematicamente è matematicamente finita ragazzi l'Europa l'Europa finisce qui io non ci posso credere è matematicamente finita cioè matematicamente no ma il Milan dovrebbe perderne due o il Bruxelles dovrebbe perderne due siamo aggrappati veramente a nulla a nulla a nulla cioè allora se il Bruxelles perde la prossima ci abbiamo la possibilità di allo sconto diretto andargli sopra non è matematicamente finita però un po' come se lo fosse ecco è un po' come se lo fosse io ad essere al Milan in campionato gli faccio 5 gol dei cattiveria ho lasciato pure Pippo perché oggi a Pippo almeno con un po' di rabbia riuscirai a fare due cose in croce eh comunque adesso appena si apre il mercato andiamo a Pia Eto'o eh Eto'o l'imperatore lo più propenso per l'imperatore però maledetti 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 guarda questi che mannaggia che cosa fai dai 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 mi sto odiando gli rubo pure Sederf a gennaio gli rubo Sederf basta ho deciso non so come ma lo farò guarda vai Pippo vai Pippo sembrano intenzionati a farsi male in questi ultimi minuti non te sta a far strusciare la palla Nesta spero sia Nesta e non Calazze per il tuo bene niente c'ha Montani davanti e non gliela dà ma perché non gliela dà mannaggia miseria vabbè primo tempo un po' così un po' peperino che campionato possiamo anche il fermiare è forte il fermiare è forte qua stiamo subendo più noi la coppa gli dobbiamo fare tre go sei passato lasciaci con un golet niente però lui c'ha la punta a storta pure lui c'ha la punta a storta non c'è segreto una squadra spuntata cosa può fare da qui cosa può fare niente non te fanno dirà Pippo Pippo niente non tira non tira non tira ho premuto 50 volte ho premuto 50 volte ho premuto mannaggia a tutto a tutto 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 mannaggia vai a raccogliere da poesia del calcio la poesia del calcio e la poesia del calcio se la butti dentro ci tua la poesia del calcio non ha niente non mi ha dato il segnale vabbè comunque una comica oggi una comica mannaggia alla miseria alla miseria maledetti maledetti quanto li odio maledetti rognoso sto Milan porca miseria se è rognoso vabbè ci resta la coppa con Livorno ecco la partita la coppa con Livorno partita di addio di Pippo ciao Pippo goodbye Pippo sugli spalti mamma mia terribile veramente bye bye Pippo uniz Pippo comunque se a gennaio riusciamo a prendere Sedorf e tu si può anche provare il miracolissimo in Champions ma chi mannaggia ci prova pianissimo ci prova bellissima la palla di Digno non tiri mai di prima moledetto è buona perché di testa perché di testa perché per una volta Pippo butta dentro basta avete fatto la bianca Arminiello ho tutti che mi dicono tira tira ma ma chi ma chi che 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 Marco Marco ci ha provato a prenderla a solo un minuto di Vilemson Vilemson non c'è mai un'occazzenti Pippo I wish you well te saluto basta basta penso che tu abbia fatto tutto ciò che ci si poteva aspettare da te penso sinceramente che si sia oh e basta penso sinceramente che si sia giunti al capolineo ti lascio l'ultimo giusto perché voglio che tu possa lasciare con un bel ricordo mannaggia insieme bravissimo frank bravissimo frank mannaggia tutto frank oh siamo fatta e segna sempre lui e segna sempre lui unica certezza di una squadra allo sbando è partito è partito ebbene arca misera fatta troppo stretta finta dai che è finita ah si si eh porco tutto mamma mia che incubo ah comunque sarebbe come il parent c'entra avanti come si deve e tu sarebbe veramente la prima scelta speriamo di riuscire a portarlo via perché servirebbe servirebbe su servirebbe tanto e spero che lo si possa prendere proprio finanziari ma non te ma non te preoccupa ma non ma non te preoccupa che non è successo niente è tutto a posto allora ragazzi per il momento ci vediamo qua ma prossima volta mercato e credo tre partite è un po' abbiamo l'aldo de nang e ah il ritorno con livorno e poi la samp si facciamo così dai alla prossima e speriamo bene perché ci serve come l'aria